sin dalla messa in onda di fino all'ultimo battito serie tv di genere drama e medico andata in onda tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2021 su rai 1 i telespettatori più affezionati si sono chiesti se le vicende che vedono protagonista il chirurgo diego mancini avrebbero avuto un proseguimento dopo settimane di speculazioni la rai si è pronunciata in merito ecco cosa è stato deciso nonostante i lavori per la seconda stagione di fino all'ultimo battito erano già dati per cominciati oggi primo dicembre 2021 i fan della serie tv hanno ricevuto una brutta notizia lo sceneggiatore cinematografico andrea valagussa capo sceneggiatore della serie ha annunciato su instagram con amarezza che fino all'ultimo battito 2 non si farà valagussa su un lungo post si è detto dispiaciuto di non poter continuare a sviluppare i personaggi che ha creato tre anni fa di cui si dice orgoglioso per tre anni sono stati con me elisa fabrizia maura e nicola poi ecco la magia hanno trovato interpreti bravissimi che hanno saputo farveli conoscere e quindi il set le scenografie i costumi il trucco il montaggio le musiche la messa in onda non siamo partiti bene ma puntata dopo puntata siamo cresciuti e l'ultima serata ha conquistato 4 milioni e 600 mila spettatori ecco perché loro avevano già iniziato a suggerire nuove storie colpi di scena oggi la rai ha deciso la seconda stagione non si farà loro ci sono rimasti male e più or noi mi hanno chiesto almeno di dirvi addio nel farlo colgo l'occasione per ringraziare chi ha reso questo sogno possibile luca saverio gladis francesca michele federica paola e cinzia ringrazio mia moglie e i miei e ringrazio voi il nostro pubblico non solo chi ci ha premiato ma anche chi ci ha criticato ci mancherete e se noi mancheremo a voi sappiate che i personaggi restano nel mio studio c'è posto per l'annuncio improvviso è stato accolto da tanti commenti delusi per la decisione la notizia arriva a poche settimane dalla fine della prima stagione dello sceneggiato andata in onda giovedì 28 ottobre 2021 la decisione di mamma rai è davvero inconsueta la serie tv ha avuto buoni ascolti avendo totalizzato una media di oltre 4 milioni di telespettatori il gran finale di stagione ha addirittura sfiorato il 23 per cento con picchi superiori al 30 per cento grazie a tutti per cento grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.